Ah, eccoci qua, calciofili, sportivi, scommettitori, il Toro conquista il Bentecodi, c'entra la quarta vittoria consecutiva come non gli riusciva da 37 anni, pensate, dal 1978, e il Torino non vinceva quattro gare consecutive in Serie A. Finalmente vede pure la zona Europa League, ottima partita da parte del Torino, 3 a 1 è finita, cioè 1 a 3, giocavano a Verona, al Bentecodi, e niente, ha segnato Martínez, Quagliarella e Ercaduri, per Verona ha segnato Luca Toni. E questo è stato l'anticipo della, mi sembrava, 22esima giornata di Serie A, sì, è andata proprio così.